Lo spazio su hard disk non ti basta mai? Beh, se è per questo, nemmeno a me. Ma non farti cogliere dalla rabbia, non distruggerlo, perché ho una soluzioncina davvero interessante da proporti. Andiamo a vederla insieme? Ti senti pronto? Iniziamo! Disclaimer! I contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo. Andiamo avanti, va! Nella seppur breve storia di questo canale ci siamo trovati più volte ad affrontare l'argomento della corretta gestione dello spazio su disco. Abbiamo esaminato alcune soluzioni, tanto che io stesso a un certo punto ho presentato un programmino che avevo creato e che poteva darci una mano in tal senso. Ma recentemente un carissimo amico mi ha costretto a scaricare e testare un software che, a dir la verità, non conoscevo proprio e che, a mio avviso, ha una marcia in più. Perché, oltre a consentirci di liberare spazio sul nostro hard disk, ci consente di gestire meglio lo spazio esistente ma ci fornisce anche una serie di preziosissime informazioni che ci permettono di fare un uso molto più consapevole e migliore del nostro hard disk. E allora non perdiamo neanche un altro secondo e andiamo subito a scaricarlo insieme. Se segui abitualmente il nostro canale, allora sai già che cosa stiamo per fare, ovvero aprire il nostro browser e nel motore di ricerca andare a digitare Gentiluomo Digitale. Ok, effettuiamo la nostra ricerca e facciamo riferimento al primo risultato, ovvero quello relativo al dominio Gentiluomo Digitale.it. Facciamo un clic per andare ad aprire il nostro sito e, una volta che si sarà aperto, ci porteremo qui in alto sulla sezione che si chiama Downloads. Facciamo clic anche qui per andare ad aprirla e quindi scendiamo un pochettino più in basso fino ad individuare questo download qui, quello che si chiama Treesides. Potrai fare clic sul mega pulsantone azzurro per scaricare il nostro file, ma nel caso in cui tu non riuscissi a trovare questo o qualsiasi altro file che mi vedi presentare in qualche video, niente paura, non cadere in depressione, non farti saltare in aria come un petardo, bensì insinuati su questa lente di ingrandimento in alto a destra, facci un clic su e digita il nome del file oppure anche una sola parola che ne fa parte. In questo caso il nostro file si chiama Treesides, quindi io andrò a scrivere proprio Treesides. Ecco fatto, premo invio per effettuare la ricerca e in un picco secondo abbiamo trovato il nostro file. Facciamo clic sul nome per andare a scaricarlo, attendiamo qualche secondo, si tratta comunque del download di un file molto piccolo e una volta che sarà stato scaricato ci comparirà qui in alto. Quello che dobbiamo fare a questo punto è un bel clic su questa icona per andare ad aprire la nostra cartella dei download e potremo chiudere la finestra del browser retrostante che non ci serve più. Quello che dovremo fare adesso sarà andare sul file che abbiamo appena scaricato, quello che si chiama Treesidesfree-portable.zip, farci un bel clic con il pulsante destro del mouse e scegliere la voce Estrai tutto. Nella finestra che si aprirà cliccheremo sul pulsante Estrai e al termine dell'operazione potremo chiudere questa volta la cartella che abbiamo appena estratto. Ci ritroveremo nella cartella download due cartelle, una delle quali si chiama Treesidesfree-portable. Infatti il programma che abbiamo appena scaricato è per l'appunto portable e quindi quello che potremo fare sarà metterla su un pendrive, se preferiamo, e quindi portarla in giro per usarla anche sul pc di nostri amici, parenti e colleghi oppure molto più semplicemente trascinarla sul nostro desktop. Fatto questo potremo chiudere la finestra dei download. E adesso facciamo doppio clic sulla cartella che abbiamo appena messo sul nostro desktop e diamo un'occhiata al suo interno. Quello che vediamo sono una serie di file ma quello che ci interessa è solo uno, quello che si chiama Treesidesfree.exe. Facciamo un doppio clic per andare ad aprire, e la prima cosa che ti suggerisco di fare è un clic su questo pulsante, quello che si chiama Avvia Treesidesfree come amministratore. Clicchiamo, clicchiamo su sì per consentire che vengano apportate le opportune modifiche al nostro dispositivo e come vedrai il programma si chiuderà per un attimo per riaprirsi immediatamente dopo in modalità amministratore. Vediamo un po' la sua finestra principale. Se cliccheremo sul primo pulsante in alto a sinistra, quello che si chiama Seleziona cartella avremo la possibilità di selezionare un intero hard disk oppure di scegliere una singola directory da andare ad esaminare sul nostro computer. Una volta effettuata la scelta potremo cliccare su Seleziona cartella, ma io in questo caso faccio clic su Annulla, riclicco sul nostro primo pulsantone e scelgo di analizzare l'intero contenuto del disco C che come vedi in pochi secondi ci viene mostrato con un report già abbastanza dettagliato e ci mostra in ordine decrescente di spazio allocato, oppure se preferiamo di dimensione, i file presenti sul nostro pc. Ma facciamo un attimo di stop perché è fondamentale a questo punto capire la differenza tra spazio allocato e dimensione del file. Ci aiuteremo in questo con una simpatica infografica. E qui ti prego di immaginare una musica tipo il mondo di Quark. Quella che ti sto mostrando è la struttura di un hard disk formatato. Formattare un disco infatti significa suddividerlo in tracce e settori. Puoi immaginare le tracce come una serie di cerchi concentrici, come quella individuata dalla A e colorata in rosa nel nostro esempio, mentre i settori sono come questo evidenziato dalla lettera B e di colore lilla, che sono una serie di spicchi un po' come quelli di un'arancia. L'incrocio tra una traccia ed un settore, in questo caso colorato in viola, è quello contraddistinto dalla lettera C e si chiama settore di una traccia. Una serie di settori come quelli individuati dalla lettera D sono quelli che vengono occupati da un file oppure da una cartella. Ma come puoi vedere, le dimensioni dei settori di una traccia sono fisse, per cui se per caso un file occupa solamente una parte di questo settore, verrà comunque occupato l'intero settore. Quello che ho cercato sicuramente maldestramente di chiarire con questa spiegazione un po' maccheronica è che nei nostri computer abbiamo sempre una discrepanza di misurazione nel momento in cui parliamo di spazio allocato piuttosto che di spazio occupato. Per fare un esempio ancora più semplice, lo spazio occupato è come dire questo libro è grosso 150 pagine, ma lo spazio allocato è come dire prendo questo libro di 150 pagine ma siccome non ho una scatola perfettamente adatta a contenerlo, lo metto in una scatola in grado di contenere 200 pagine. In realtà, come ci mostra questo programma, questo rapporto non è sempre esatto, quindi se ad esempio la nostra cartella Windows Hold occupa come dimensione 34,8 GB ma viene allocata in uno spazio maggiore, ci sono anche casi in cui altre cartelle, come la cartella Windows normale pur occupando 32,2 GB di spazio come dimensione viene allocata in soli 16,4 GB e questo è dovuto ad una serie di fenomeni non ultimo dei quali gli algoritmi di compressione che ci consentono di far occupare uno spazio minore a dei file di dimensioni maggiori. Nel momento in cui quindi ci troveremo a cercare di capire quali sono le cartelle che sul nostro computer occupano la maggior parte dello spazio, dovremo fare i conti anche con questa differenza, ma adesso scendiamo sul pratico, portiamoci sulla sezione che si chiama visualizza, qui in alto, facciamoci clic e clicchiamo su questa icona qui, l'ultima a destra che si chiama mostra grafico tree map. In questo modo avremo un grafico che ci mostra a colpo d'occhio la situazione sul nostro hard disk, ma per vedere la situazione precisa dovremo cliccare proprio sulla cartella oppure sul disco che abbiamo scelto di analizzare. E ci accorgiamo immediatamente che c'è questa cartella Windows Hold che occupa la bellezza di 35,6 GB sul nostro hard disk ed è una cartella che normalmente, come sappiamo, viene lasciata indietro nel momento in cui andiamo ad aggiornare la nostra build di Windows. È una cartella che nella stragrande maggioranza dei casi può essere cancellata consentendoci un notevole risparmio di spazio, ma attenzione qui ci va una precisazione grossissima e cioè nel momento in cui deciderai di cancellare questa o qualsiasi altra cartella sul tuo computer assicurati al 100% che non sia una cartella utile e assicurati anche di avere sempre un backup di tutti quanti i file più importanti. Sarà quasi impossibile andare a cancellare tramite questo programma delle cartelle di sistema ma tieni sempre presente il mio avvertimento. Per cancellare una cartella come nel nostro caso Windows Hold che è bella cicciotta ci facciamo un clic con il pulsante destro del mouse e scegliamo la voce elimina nel menu contestuale. In breve partirà la procedura di eliminazione della cartella che in questo caso sarà piuttosto lunghetta dato che si tratta di una cartella particolarmente corposa. Facciamo anche save? Ma andiamo a vedere sul nostro disco C com'è cambiata la situazione dopo l'eliminazione di questa cartella e devo dire che rispetto a prima la situazione del nostro harddisk è decisamente migliorata e questo grazie al nostro programmino che ci ha consentito in maniera estremamente semplice di individuare le cartelle di grosse dimensioni da eliminare e di facere cancellare semplicemente con un paio di clic. Ma attenzione per questioni di brevità quello che ti ho mostrato è solamente una vista a volo di uccello di questo programma che ha tantissime altre funzionalità che ti invito a sperimentare con le debite precauzioni in prima persona e se avrai segnalazioni da fare oppure se avrai dei dubbi ti prego di farmeli sapere nei commenti. E prima di tornare ai miei adorati baci di dama c'è una comunicazione importantissima che non vedevo l'ora di fare. Ebbene sì i nostri moderatori del forum e della chat sempre siano lodati hanno deciso di implementare sul loro sito e che ti lascio sia qui sotto che nella descrizione di questo video quattro nuovi servizi. Il primo è la possibilità di scaricare una ISO completamente alleggerita e deblottata da loro ricca anche di molti software di utilità. Il secondo è la possibilità di farti creare una tua ISO personalizzata sulla base di quelle che sono le tue esigenze. Il terzo è una consulenza per l'acquisto di nuovi computer quindi se brancoli nel buio e non sai che hardware comprare loro ti possono fornire un pacchetto completo e poi potrai acquistare dove ritieni il tuo computer. E il quarto servizio importantissimo perché richiestissimo è la possibilità di effettuare assistenze da remoto. Quindi se hai bisogno di qualsiasi di queste quattro cose rivolgiti tranquillamente al sito bitestortech.it oppure contattali direttamente nel forum oppure nella chat. Ma veniamo a noi e veniamo soprattutto ai ringraziamenti del giorno che quest'oggi sono tutti solo ed esclusivamente proprio per te. Che hai guardato questo video mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima. Iscriviti! Grazie a tutti! Grazie a tutti